Sono ore chiave per il futuro del Lecce, quantomeno per delineare alcuni dei personaggi che reciteranno nel prossimo futuro giallorosso. Qualsiasi esso sia, infatti, la dirigenza si muove per allenatore di esse, figure centrali anche nell'ipotesi autogestione. Sul fronte cessione non si registrano novità concrete. Da Roma arriva l'indiscrezione secondo cui anche Unicredit starebbe vagliando alcuni possibili acquirenti, avendo avuto poco tempo fa contatti con imprenditori interessati ad entrare nel mondo del calcio per succedere alla famiglia Sensi. Dall'altra, in questi giorni, i dirigenti salentini avrebbero avuto un colloquio con Gigi Blasi, imprenditore di Manduria ed ex presidente del Taranto che accarezzò la Serie B, perdendo la finale play-off ad Ancona. Tecnico di esse, quindi, saranno le prime pietre su cui verrà edificato il nuovo Muro Leccese. Per il ruolo di direttore sportivo, i nomi che circolano con più insistenza in orbita giallorossa sono Paolo Cristallini, attualmente al Vicenza, e Carlo Osti, ex Atalanta e vicino già in passato a lavorare nel Salento. Per il capitolo allenatore i nomi in lizza sono tanti, ma molti di questi, nelle ultime ore, si stanno avvicinando ad altre squadre. È il caso di Gianluca Azzori, che ha guidato la regina dei giovani ai play-off. Lo ha scelto la Samp, che però deve liberare Mimmo Di Carlo. L'ex leccese, prima dell'annuncio del patron Semeraro, sembrava uno dei principali papabili alla successione di De Canio. Nelle ultime ore si profila invece sia un ritorno, ma sulla panchina del Chievo. I Clivenzi, se questa pista si rivelasse impraticabile, potrebbero contattare un altro ex giallorosso, Giampiero Ventura. Anche Marco Giampaolo si allontana da Lecce. Per lui la panchina del Cesena, che ha rescisso con ficca denti. Il tecnico marchigiano potrebbe essere una soluzione, a lui pensa anche il Siena. Intrigo per il tecnico tra Lecce e Catania. Gli etnei seguono con attenzione De Canio, ma anche Torrente, regista del Gubbio dei Miracoli e Vincenzo Montella. L'aeroplanino è ormai certo di non essere più nei piani della Roma per la prima squadra ed è disposto a prendere una piccola pur di continuare ad allenare. Un altro emergente è stato accostato a Lecce. Quel sannino che ha guidato il Varese neopromosso agli spareggi promozione. Il tecnico avrebbe però espresso il non gradimento verso questa ipotesi. Su di lui c'è anche il Bari. Infine c'è la pista tutta salentina che porta a Chieco Moriero, amatissimo dalla piazza. Le remore riguardano la sua inesperienza in Serie A, dove è tutto da testare il suo calcio spettacolo che ha fatto divertire mezza Italia. La margherita è ampia e sicuramente nasconde altri petali. Il mama non mama di certo sta per finire.